A quina mattata ragazzi, ben ritrovati dal vostro CiccioGamer89 Siamo tornati su Fortnite Signori, mi raccomando Eeeh... non lo so, lasciate un bel like subito, subito, subito Signori, ci siamo? Abbiamo lasciato like Procediamo, l'ultima volta veramente per pochissimo ragazzi Veramente per pochissimo, per pochissimo Signori, sta per incominciare Sto capendo parecchie meccaniche di questo gioco qua L'ultima volta, la miglior posizione che abbiamo raggiunto è stata la sesta posizione Che non è stato niente male Purtroppo ho dovuto cambiare la batteria e ci siamo rimasti un po' inculati comunque Ok, io mi lancerei qua e andrei su questa cittadina qua sotto Ma in realtà abbiamo anche questa casa qua che in realtà non mi pare male Che potrebbe essere un po' isolata Sai che c'è? Mi piace, mi piace Anzi, sai che c'è? Cambio subito direzione E chi si è visto? Oh Che dolori de panza Famme fa qua va Che Bene Bene Molto, molto bene Però almeno una gioia L'abbiamo trovata Da qualche parte Da qualche pizzo Vediamo se sta qua dentro Ole Ok Ah, parecchia roba interessante Perché questo qua ce lo beviamo E ci dà il sovrascudo Purtroppo di questo qua ce ne abbiamo due Ma non è Sto gran problema Guarda quanto è alta la sensibilità Ma cazzo Troppo Troppo alta Ok Johnny Ottimo 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 Ma sopra non mi sembra che ci sia roba Che mi può servire tantissimo Però Però Perché c'è? Vedete questo qua Me lo prendo perché non si può mai sapere Allora Sto giro voglio giocare aggressivo Perché io sento che sparano Vedete qua E io voglio andare a rompere proprio i coglioni O mi rompono a me E come ho detto Probabilmente Me li rompono Ok Mamma mia Rega come mi ha rotto il culo questo Io ho una mira di merda Ma secondo me Perché è troppo alto Troppo alto Ragazzi Prima kill fatta Tra l'altro con un mitra Che pensavo facesse schifo Ma proprio la merda? Ehm Raro Quindi Prendiamoci questo raro E vediamo un po' Se riusciamo a fare qualcosa di meglio Anche perché sto gioco in realtà È molto figo Ma ovviamente va capito un attimo Va capito anche come cacchio se spara Che secondo me Ok Non so Non credo che arrivino Verso di me Ok C'è uno che saltella ragazzi Quello Cioè credo più di uno In realtà Sapete? Là dentro vedo roba Magari è loot di qualcuno Deceduto Ah vedi c'è uno che sta costruendo Vediamo un attimo se C'è un medikit Lo voglio Mio medikit Granata la prendo Sì però magari Quello non si sa Che cazzo Ha deciso Ok Ti sfondo Sto affinendo le munizie Però Lo sfondo comunque Adesso mi piace assai Ma come potete vedere Sto Finendo tutte le munizioni Quindi non so quanto in realtà Io abbia fatto bene Ho una cifra di medikit Tanti E sopra di me Probabilmente Ho la cassa C'è quello che mi sta parecchio sulle palle Ve lo devo dire Adesso sta ancora là Incredibile Guarda lo è Di una cattiveria Imbarazzante Ah Ah Non parli più È normale Perché ti ho sparato un faccia Eh Se parlavi ancora Era un problema Hai capito Sta magnum Che robetta Delicata Ok E di qua dentro Per esempio Sono abbastanza sicuro Che ci sia qualcosa di Possibilmente interessante Però Noi per il momento Questo non ci serve Ok 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 Carina sta magnum Raga Sento sparare Tantissimo E la mia curiosità È veramente troppa Ok Veramente troppa Ok ragazzi Me la son cavata Ma veramente Veramente Per pochissimo Mi sto mettendo un medikit Orca puttana Raga Ok Mamma mia Raga Mi prendo questo Capirai Guarda che m'ha dato Sto popò De roba Ok C'è qualcuno Che Tende forse A spararmi Con un cieco Io devo sempre Capire chi cazzo Sta a costruire là E chi cazzo Mi stava a sparare Che poi tra l'altro Mi sa che quella cosa Che avevo preso prima Mi ha fatto crescere Lo scudo Un pochino Alla volta Là sopra C'è un sacco di loot Ma se c'è il loot Significa che c'è qualcuno Vedi Eccolo Guarda 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 il loot Ragazzi C'è un sacco Un sacco Di loot Io ho torto 54 Non è poco Guarda guarda Questo se sta a costruire casa Va bene A sentire A scafonata Io ho fatto a sentire Uno sta là Vedi sta là Però Uh uh Morto Ok Orca trottola Orco 2 Ma che mi ha attirato Regà Mamma mia Uh Che botta Con che cazzo di arma Con fucile pesante Ma che cazzo di fucile pesante C'avevi Frate Oddio mio Che scarafata Che mi ha dato Oh Nuovo lancio Ragazzi Me ne vado Direttamente qua E chi si è visto Si è visto Eh vabbè Ma come fa Arrivace così veloce Oh guardalo È cattivissimo Guardalo Sto maledetto Vieni qua Che stai nella merda Ok Che mira Di merda Posso dirlo Si posso dirlo Tranquillamente no Non è così facile Mirà qua Comunque Ok Andiamo a morire Va Minchia Che sei in c***a Regà Ma quanto Sono cattivo Taccitua 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 Guarda che sei matto Ok Mi sto curando Ovviamente io Me ne frega niente Io vado a prendere me Regà Guardate la gente Che c'è Va bene E la mia mira In tutto questo Lo devo lasciare Ragazzi Lo devo lasciare E come va Va Effettivamente Ci potrebbero essere altre 500 persone qui che mi vogliono ammazzare Però Wow Tutte quelle munizioni Ci ho Wow Tutte queste munizioni Non saranno troppe Oh 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 Qua 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 Ragazzi ho pochissime muni Lo so Però Questa mi sembra abbastanza interessante come partita Eh Oh 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 Ok Quindi 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 Facciamo così Vada qui la roba Lancia razzi Lo voglio tutta la vita Lancia razzi Prendo questo Ok Tante munizie Ma per le armi sbagliate Credo Sapete Credo decisamente Fatemi beve un po' di questo Bella sta partita Mi piace Ma diciamo che come arma Da lontano Ci abbiamo lancia razzi Per il resto Non c'ho niente Va bene Se sento uno che sta vicino È Christian D'Or Gli tiro un missile in capa Perché non c'ho armi Da lontano Vediamo se riesco Magari qua Allora raga Qua Ce n'ho un altro Cazzo punto Non vedo un chiazzo Madonna mia La cattiveria Pazzesca la mia mira Questo non sa neanche dove cazzo sto Eh ma va Ma va Pazzuolo va Oh Allora C'è chino mio Non è vero Non voglio questo Voglio questo qui Ok Mi sa che poi Tra l'altro Immaginavo Ok quindi Questo ce l'ho Questo ce l'ho Bella sta partita Mi piace un casino Regà Questo ce l'ho E riattaccio tutto Bene Lancia razzi Non l'ho ben capito ancora Regà tra l'altro Mi sembra che ne ho ammazzati 5 Buono 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 Allora come armamentario Non stiamo messi male Però Lancia razzi Credo che sia di una lentezza Mortacci tua Non so se c'ha Wow 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 Quello è di una potenza Imbarazzante Va bene Io Oserei dire questo Guarda quanto è lento Forca puttana Lenti Questo mi rascerà sicuramente Perché tanto No è troppo forte Ragazzi Ha un'arma Decisamente troppo forte Per me Comunque è troppo forte lui Quindi sinceramente Opterei per una ritirata Incredibile No Era forte Era forte Regà Era forte Potevo giocarmela meglio Signori Io direi che l'appuntamento di oggi Può finire qua Spero che il video vi sia piaciuto Se fosse così Mi raccomando Pollicione in su Commentate Condividete Se non siete iscritti Iscrivetevi Al prossimo appuntamento Con il vostro 10-89 Ciao ciao